La prima chiesa che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto vedere con i suoi occhi durante la visita all'Aquila in occasione dell'inaugurazione della Chiesa degli Anime Sante il 6 dicembre scorso è stata la Cattedrale di San Massimo. Il Duomo, senza più copertura, crollata con le scosse del Sepile 2009, rischia di subire danni irreparabili dopo dieci anni di totale incuria. È il pugno nell'occhio della ricostruzione dell'Aquila, per chissà quale motivo mai inclusa nel progetto di copertura di tutti gli edifici di culto danneggiati portati avanti dall'ex commissario straordinario dei beni architettonici Luciano Marchetti. Sul Duomo si sono succeduti tanti annunci di avvio dei lavori, ma sinora quello che lo stesso Mattarella, accompagnato dall'arcivescovo e cardinale Giuseppe Petrocchi, ha definito una ferita da sanare più presto, è rimasto così in balia delle intemperie e della complessità che ha riguardato la ricostruzione di un enorme aggregato immobiliare che include, oltre alla parte privata della curia, anche quella pubblica della Chiesa. Ora emergono nuove date, una sorta di cronoprogramma dettato dal liter burocratico della ricostruzione. Il segretario regionale del Mibac Stefano D'Amico conferma l'avvio entro il 2019 dei lavori sulla Cattedrale di San Massimo.